è molto difficile scegliere un gommone tra 8 e 9 metri di lunghezza perché ce ne sono tantissimi se però cercate un mezzo costruito con le più avanzate tecnologie che offrono robustezza durata minimo peso per consumare meno o per andare molto veloci allora la scelta si restringe a pochi modelli e tra questi mito 29 di mv marine che oggi vediamo nella versione tender mv marine utilizza la tecnica dell'infusione della resina nelle fibre di vetro sottovuoto da oltre 15 anni altri elementi sono realizzati con la tecnica rtm light le carene sono studiate in collaborazione con l'università di napoli e sperimentate nelle vasche navali fatte queste importanti premesse possiamo passare a ciò che spesso interessa di più anche se vale di meno l'estetica carina e coperta sono di gel coat nero un rischio perché si notano maggiormente le imperfezioni ma evidentemente questo cantiere non teme il giudizio è un walk around adatto a chi vuole sentirsi protetto da murate alte e schienali imbottiti e in più ci sono i corrimano sopra le mastri questi divanetti diventano un prendisole sicuro anche in navigazione nella versione tradizionale sembra incredibile eppure c'è posto a sedere per 14 persone è proprio un vero tender per ripararmi dal sole potrei avere un tendalino micro forato tesato tra pali di carbonio oppure un t-top di alluminio o un roll bar d'alluminio con il parasole o ancora un tendalino autoportante sotto coperta c'è il bagno con lavandino stampato e tanti specchi dietro ai quali si nascondono gli impianti ha un capiente serbatoio per l'acqua 130 litri l'area più versatile è il pozzetto con tre divani il tavolo e la possibilità di trasformarla in un grande prendisole un'altra versione prevede lo schienale di poppa abbattibile sulla plancia bagno ovviamente in questo caso il palo per lo scinautico diventa sfilabile l'ancora è a vista ma non sporge e per non arretrare questa paratia hanno inventato un ingegnoso sistema di rinvio della catena la passerella ribaltabile è molto utile per facilitare le operazioni di imbarco e sbarco come tutti i gommoni mv marine è dotato di un chip nascosto che contiene un codice di identificazione il livello delle finiture del mito 29 è assolutamente alto è la costiera amalfitana che fa da scenario alla prova del mito 29 t con due fuoribordo mercury da 250 cavalli montati parecchio in alto per essere ancora più sportivi non è possibile definire la velocità di planata perché entra in assetto subito a bassissima andatura senza alzare il muso oltre a essere costruito per infusione di resina vinilestre viene utilizzata anche la tecnica del sandwich cioè con un'anima tra due laminazioni di vetro resina questo serve a alleggerire la costruzione a renderla più robusta e a non impiegare delle strutture di rinforzo il classico telaio di rigenimento e in questo modo si riesce ad abbassare i paioli ad abbassare quindi tutte le strutture di coperta ed evidentemente ad abbassare anche il baricentro che su un'imbarcazione veloce è importante a 25 nodi occorre soltanto un litro e mezzo per ogni miglio di navigazione è già il primo segnale dell'efficienza di questo scafo con due step straordinaria l'accelerazione sembra di essere in moto a proposito dell'assetto di questo battello voglio precisare che i serbatori dell'acqua e del carburante si trovano esattamente in corrispondenza del baricentro quindi che siano pieni o vuoti l'angolo di incidenza dello scafo non cambia a 35 nodi ci avviciniamo ai 2 litri per miglio questo scafo ha delle caratteristiche che piacciono a un pilota di motonautica una ruota di prua allungata dolce che ti fa sentire a tuo agio anche sulle onde tre pattini per ciascun piano di carena ma non troppo aggressivi non troppo pronunciati che rendono più morbido l'impatto con l'acqua le carene a step solitamente hanno il difetto di avere un comportamento un po' bizzoso in virata qui non avverto nessuna fastidiosa reazione lo sentite morbido nel passaggio sulle onde anche perché ha un particolare sistema di smorzamento delle vibrazioni di tutta la coperta è costruito infatti con tre stampate il solito scafo la coperta e poi un controstampo che va ad appoggiarsi sullo scafo con delle giunzioni elastiche sì vabbè tante chiacchiere ma adesso è il momento della prova più importante giù una manetta dobbiamo verificare non soltanto la massima velocità che riusciamo a raggiungere con questo equipaggiamento anche se il gommone è in grado di tenerla 56 nodi è una prestazione eccellente per un'imbarcazione di questo tipo di questo dislocamento di questa lunghezza e con questi motori bravi molto grazie a tutti grazie a tutti